Leggermente uguale a quello del 2011, ad eccezione del logo che è diverso. La prima sigla di SkyTG24 fatta proprio molto bene. La sigla è completamente diversa rispetto a quella del 2007. Le sigle di SkyTG24 del 2018 e del 2020 non sono così brutte. E poi questi due sono davvero diversi, e sono leggermente uguali. Quello del 2018, sembra fatta davvero bene. Invece quello del 2020, sembra la versione modificata del precedente. Non male. Davvero non male. Grazie a tutti.